Altri due incendi in Salento. L'ultimo, in ordine cronologico, è avvenuto poco prima delle due a Gallipoli e ha interessato un furgone Iveco Daily di una ditta parcheggiato in via Bolzano. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del locale di staccamento con il supporto di un autobotte. Le fiamme avevano nel frattempo danneggiato anche una Fiat Punto parcheggiata nelle immediate vicinanze. Poco prima, intorno alle 23, altro incendio a Melendugno in via Gasperi. Qui a fuoco la Fiat Panda di proprietà di una 56N. In questo caso si ipotizza il cortocircuito ma nulla è escluso. Proseguono anche le indagini dei carabinieri sulla base delle perizie dei Vigili del Fuoco. Soltanto due giorni fa Casarano ha preso fuoco una BMW e per irraggiamento termico una Fiat Croma. Sempre in città, a fine novembre, i De Rocchi distrussero cinque autovetture della concessionaria Denuzzo, cinque autocompattatori della Tecneco, l'auto di un imprenditore e poi ancora la villetta e due auto di un altro imprenditore.